Sentieri e pensieri, si avvia la conclusione, un bilancio? Un bilancio più che positivo, in ogni appuntamento abbiamo voluto assicurire tutto esaurito la nostra piazzetta. È stato un mix di interventi davvero azzeccato, perché si è passati da interventi piuttosto più leggeri ad altri di grande spessore e credo che tutto questo sia stato veramente molto apprezzato dai visitatori, non solo dai turisti che sono già presenti, ma anche da tutte le persone che hanno raggiunto Sant'Avoria per quello. Credo che abbiamo raggiunto del segno il nostro obiettivo, quello di dare un'iniziativa di qualità per Sant'Avoria Maggiore, per la nostra valle e per l'intero territorio. Ne hanno parlato moltissimo le testate anche nazionali, inoltre a quelle locali, per quello vi ringrazio, e quindi noi abbiamo l'auspicio di dare gambe e di dare seguito di un'iniziativa a quale crediamo. Grazie a tutti.